fine settimana rovente a gela ma non c'entra il clima sabato infatti tre persone sono rimaste ferite nel corso di due sparatorie verificatesi nel giro di poche ore in bianiscemi prima e nella zona di macconi poi se i due episodi siano collegati e cosa ci sia alla base saranno le indagini della polizia a stabilirlo nel frattempo il prefetto chiara armeni ha convocato una riunione del comitato per l'ordine la sicurezza il primo episodio si è verificato sabato mattina intorno a mezzogiorno in bianiscemi nella zona dove sorge lo stadio vincenzo presti stando alle prime ricostruzioni un'auto si è fermata nella zona e dall'interno della vettura sono stati esplosi diversi colpi che hanno ferito due giovani di 23 e 25 anni il tutto in pieno giorno con passanti autovetture che transitavano in bianiscemi nel primo pomeriggio di sabato il secondo episodio nella zona di macconi stavolta i colpi sono stati sparati contro un altro 23enne che è stato ferito ad una gamba tutti e tre i feriti hanno dovuto fare il ricorso alle cure dei medici dell'ospedale vittorio emanuele ma le loro condizioni non sono gravi gli investigatori stanno ora cercando di mettere insieme tutte le tessere del puzzle e stanno verificando la presenza di impianti di videosorveglianza nelle zone dove sono avvenute le sparatorie per cercare di risalire all'identità dei responsabili oltre 140 chili di ascici sequestrati 17 ordinanze di custodia cautelare 41 denunciati sono questi i dati dell'operazione della squadra mobile di agrigento denominata fish and drug indagati sono accusati di spaccio di stupefacenti con l'aggravante dell'ingente quantità e tentata estorsione l'operazione è stata realizzata a porta in pedocle ma misure cautelari sono state eseguite anche a favara palma di montechiaro e agrigento inchiesta è partita nel 2019 quando la squadra mobile di agrigento del commissariato di porta in pedocle hanno arrestato un empedoclino trovato con 5 kg di hashish l'indagine in collaborazione con la guardia costiera di porta in pedocle ha permesso il sequestro di oltre 140 chili di hashish e la denuncia di oltre 41 persone alla procura della repubblica di agrigento nella fattispecie le 17 misure cautelari firmate dal gip di agrigento su richiesta della procura sono state notificate durante la notte della polizia per tre indagati è stato disposto il trasferimento in carcere per sei domiciliari e per tutti gli altri invece l'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria un uomo di 45 anni di niscemi è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di spaccio di stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di marijuana e hashish nei giorni scorsi militari della stazione di niscemi hanno eseguito una perquisizione in casa dell'indagato già noto alle forze dell'ordine alla ricerca di armi nel corso dell'accertamento però gli investigatori invece di scoprire armi hanno trovato gli stupefacenti nel dettaglio si trattava di 100 grammi di marijuana e 7 grammi di hashish quantità sufficiente per far scattare l'arresto subito dopo il 45enne è comparso davanti al gip del tribunale di gela che ha disposto gli arresti domiciliari come chiesto dalla procura della città del golfo la polizia della sezione volanti nel corso dei servizi di controllo del territorio eseguito in città ha accertato 55 violazioni durante la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale in particolare nelle ultime due settimane 18 persone sono state sanzionate per mancata revisione del mezzo 6 per mancata copertura assicurativa del veicolo 9 per guida senza patente 5 per omesso uso della cintura di sicurezza 3 per mancato utilizzo del casco protettivo 3 per velocità non commisurata 2 per uso del telefono durante la guida e 9 per altre sanzioni sono questi i numeri diramati dalla nota ufficiale della questura di caltanissetta sui controlli effettuati dalla polizia di stato finalizzate a prevenire gli incidenti stradali e ad assicurare una corretta viabilità garanzia di tutti i cittadini del capoluogo nisseno sono 25.554 i nuovi casi di covid registrati in tutta italia di cui 1.281 in sicilia nelle ultime 24 ore stando al bollettino diffuso dal ministero della salute nell'ultima settimana invece in provincia di caltanissetta sono stati 454 i pazienti positivi al sars cov 2 tutti in isolamento domiciliare 169 sono di gela 167 di caltanissetta 42 di san cataldo 14 di mussomeli 13 di santa caterina 9 di niscemi 8 di sommatino 5 di valle lunga 5 di mazzarino 5 di delia 4 di monte d'oro 4 di serra di falco 3 di butera 2 di campo franco 2 di riesi 1 di acquavive 1 di parianopoli ricoverati in degenza ordinaria 16 pazienti 5 sono provenienti da fuori provincia 4 di gela 2 di caltanissetta 1 da villalba 1 da resuttano 1 da mazzarino 1 da marianopoli e 1 da sommatino dimessi dalla degenza ordinaria 8 pazienti 3 di gela 2 di caltanissetta 1 di san cataldo 1 di resuttano e 1 di serra di falco deceduto un paziente di serra di falco positivo al sars cov 2 sono invece guariti 130 pazienti di caltanissetta 99 di gela 37 di san cataldo 18 di mussomeli 13 di niscemi 11 di serra di falco 10 di santa caterina 8 di butera 6 di mazzarino 4 di delia 4 di milena 4 di valle lunga 4 di buon pensiere 4 di riesi 3 di monte d'oro 2 di acquaviva 2 di sommatino e 1 di campo franco il nuovo capitano della riammestranza che sfilerà durante la settimana santa del 2023 ha ricevuto un lungo applauso durante la cerimonia di presentazione svoltasi all'interno dell'aula consigliare del comune nisseno e moderata dal gran cerimoniere della riammestranza gianni taibi il maestro angelo palermo non che è presidente della categoria degli idraulici e lattonieri ha anche presentato i maestri che sono stati scelti per ricoprire le cariche capitanali e cioè l'alabardiere vincenzo milazzo il porta bandiera storica domenico cardillo l'alfiere maggiore francesco mulè e lo scudiero aldo bellomo è una grande emozione perché la devo me l'hanno come si è assegnato questa cosa però l'ho portata avanti di piacere veramente speravo di fare pure il capitano e ci sono riuscito diciamo sto riuscendo è una grande giornata questa ricevere al palazzo di città il capitano delle cariche capitanali perché questo segna l'inizio della settimana santa 2023 per noi la settimana santa è un evento importantissimo che riusciamo a fare prolungare anche durante l'anno il mio augurio al capitano mangione e a tutte le cariche capitanali di guidare come loro sapranno guidare sicuramente una strabiliante settimana santa anche per quest'anno che per la città di Caltanissetta è sicuramente una grandissima occasione. Abbiamo mosso oggi i primi passi per arrivare a una settimana santa assolutamente bella è una manifestazione importantissima sotto l'aspetto religioso o folcloristico di alto contenuto di coesione sociale e questa questa festa questa manifestazione è la storia della nostra città e la dobbiamo proteggere sempre per come stiamo cercando di fare negli anni passati e anche quest'anno. Si pensa adesso ai prossimi appuntamenti della Pasqua 2023. Il prossimo appuntamento sarà il 26 febbraio la prima domenica di quaresima al teatro Margherita che ci sarà il passaggio di consegne tra capitano uscente che sarà dei panificatori pasticcieri e cuochi alla categoria entranti che sarà categoria idraulici e lattonieri che svolgerà le manifestazioni nella settimana santa 2023 perché sono stati due anni sofferenti e l'anno scorso cioè l'anno scorso la capitana dell'abbiamo fatto un po' ristretta perché c'era qualcosa cioè si faceva non si faceva era qua e là però siamo riuscite con molta emozione riprenderemo le nostre tradizioni di cui tutti nei seni teniamo e tutta l'associazione sabato pomeriggio si è tenuto un open day del volontariato al giardino della legalità San Luca organizzato dalla DLF Nista Rugby dove oltre ad aver giocato con i bambini hanno anche ripulito il giardino. Si tratta del secondo appuntamento il primo effettuato mesi addietro nella piazzetta dei marinai. All'appuntamento di sabato erano anche presenti le associazioni Naponos che hanno intrattenuto i bambini con giochi di recitazione e i canuzzi di strada rappresentati dall'assessore al ramo Cettino Andaloro e dal volontario Armando Turturici. Presente anche il presidente del comitato di quartiere San Luca Nello Ambra. Un pomeriggio di gioia e spensieratezza dove il presidente della Nista Rugby Giuseppe Lo Celso ha sottolineato di come il rugby sia una famiglia. Questa come molti sapranno è il secondo Open Day dell'anno che facciamo per quanto riguarda il gioco del rugby di base per tutti i bambini. Naturalmente è proprio la federazione che ci dice di fare queste giornate in tutta la Sicilia e noi come società organizziamo quella calta insetta. Come ripeto è la seconda che facciamo, la prima l'abbiamo fatto alla piazzetta dell'Ancora. Ora questa qui ancora prevedo che anche se c'è un buon afflusso tanti altri bambini debbano venire sicuramente. Siamo molti contenti. Volevamo farne una al centro storico in piazza non per essere polemico però era questo il nostro intento ma naturalmente ci vogliono molte... non era facile che ci accettassero qualcosa del genere però noi siamo contenti perché pensiamo, come abbiamo sempre pensato, che la Nista Rugby è fatta da famiglie e come qualcuno potrà vedere ci sono molte famiglie. Con i nostri bambini seguono le famiglie e questo ci fa tanto piacere. Vuol dire che come noi rispettiamo loro siamo rispettati e evoluti bene da questi genitori. Roberto Lombardo e Alessio Spiteri mettono la loro firma sul ventesimo rally di Caltanissetta bissando la vittoria dello scorso anno e aggiudicandosi il trofeo tornatore. Il loro successo nella competizione, valido come ultima prova della Coppa Italia e campionato siciliano, non è mai stata in discussione, vincendo tutte le prove tranne una, portando al successo la loro scoda Fabia, assistita dal team D'Ambra. La corsa dei beniamini di casa è stato un vero e proprio show, dove il duo Lombardo e Spiteri hanno pennellato le curve davanti a tanti appassionati presenti. Dietro si sono piazzati Paolo Piparo e Francesco Pitruzzella. Sul terzo gradino del podio i turchi Bukhar Kukurova e Bukhar Akai. Sfortunati invece i veneti Versace e Crosilla che dopo essere stati a lungo terzi hanno dovuto abbandonare all'ottava prova. Quarti i favaresi Licata e Giglio su Peugeot 208. Quinto Maurizio Mirabile su Alpine Renault. Sesto il figlio d'arte Ernesto Riolo con Mauro Marin. Settimi l'equipaggio Nisseno composto da Locascio e Castelli su Peugeot 106. Ottavi e Noni due macchine in competizione tra di loro, Mattina Rosato e Gianfilippo Racuia, entrambi su Renault Clio, mentre ha chiuso la Top 10 Zucchetto e Mancuso su Peugeot 106. Nelle altre classi in evidenza Francesco Bonomo con Kevin Schepis che con la Peugeot 106 versione N2 si sono giudicati il gruppo R5-CN e i solisti della classe A7 Nazareno Pellitteri con Michele Lomonaco su Renault Clio RS e ancora Carlo Stassi con Vincenzo Cosenza, primi di classe N3 sempre su Renault Clio. Successi anche per Michele Antinoro con Michele Lotestro su Peugeot 106 in classe A5, per Emanuele Buscarino con Salvatore Di Giorgio, primo fra le Racing Start con la Grande Pundo RS di Vendi e per Gaetano Durso e Ivan Fantuzzo vincitori di gruppo RCSN con la Peugeot 106 di classe N1. Ha dominato la gara fra le vetture storiche l'equipaggio palermitano composto da Giuseppe Musso e Massimiliano Alduina che con la Porsche 911 Carrera RS hanno primeggiato in tutte le prove speciali, seconda con l'altra vettura di Stoccarda una 911 di secondo raggruppamento Enzo Barcellone Girolamo Catalano e terzi Stefano Parisi e Salvatore Portera sul Lancia Delta HF integrale di quarto raggruppamento. In quarta posizione hanno chiuso la loro prova Giovanni Spinato e Fabio Mellina vincitore del terzo raggruppamento. Finisce 0-0 il match tra San Cataldese e Santa Maria Cilento al Valentino Mazzola di San Cataldo per l'ottava giornata del campionato di Serie D Gironei. Solo un punto per la squadra allenata da Pietro Infantino, reduce da un pesante 4-0 sul campo del Real Aversa. I Verdi Amaranto lasciano l'ultimo posto agganciando il Cittanova. Adesso testa al derby con il Trapani alla provinciale per tentare di conquistare punti preziosi in chiave salvezza. I risultati Canicattisa-Luca 1-1, Castrovillari-Real Aversa 1-1, Acireale-Trapani 0-0, Sant'Agata-Vibbonese 2-1, Cittanova-Licata 0-4, La Mezzia-Ragusa 3-0, Locri-Mariglianese 2-0, Paternò-Catania 0-4, San Cataldese-Santa Maria-Cilento 0-0. La classifica Catania 24, La Mezzia 19, Real Aversa 15, Vibbonese-Ragusa 13, Sant'Agata e Locri 12, Castrovillari-Licata 11, Canicattì-Trapani-Cireale 9, San Luca e Paternò 7, San Cataldese e Cittanova 4, Mariglianese 3. 0-0 anche tra Castellammare e Nissa per la settima giornata del campionato di eccellenza. Risultato più volte in bilico nel corso della gara. Al quattordicesimo Terranova raccoglie un traversone e di testa va in gol. L'arbitro annulla per fuorigioco. Al ventesimo replica Scribani che con una conclusione dal limite colpisce il palo. Nella ripresa Nissa in 10 per l'espulsione di Retucci. Nei minuti finali cartellino rosso anche per Maltese del Castellammare e prima del triplice fischio i Nisseni chiedono un calcio di rigore per un fallo subito da un bianco scudato in piena area avversaria. Intanto continua a tenere banco la questione dell'indisponibilità del Tomaselli e delle linee del rettangolo di gioco. In una nota pubblicata sulla pagina Facebook della Nissa il presidente Sergio Iacona scrive vedere uno stadio pronto che non viene consegnato alla città è francamente intollerabile e inaccettabile. Da più parti anche cittadini non solo sportivi auspicano che l'impianto venga riaperto al più presto per tutti gli sport e le discipline praticabili all'interno della stessa struttura. I risultati del Girone A di eccellenza. Castellammare Nissa 0 a 0, Parmonval Acragas 0 a 6, Cus Palermo Leonfortese 1 a 2, Don Carlo Sciacca 4 a 0, Ennar Resuttana 0 a 0, Gela Mazzara 0 a 3, Profavara Oratorio Marineo 1 a 0, Mazzarese Casteldaccia 5 a 1, La classifica Acragas 19, Don Carlo Mazzarese N e Profavara 15, Mazzara 14, Sciacca 12, Casteldaccia 10, Castellammare e Leonfortese 7, Cus Palermo 6, Nissa Oratorio Marineo e Resuttana 5, Parmonval 4, Gela 2. Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di lunedì che vedrà pressione atmosferica abbastanza alta sul Mediterraneo centrale e sull'Italia, quindi al centro-sud non mancheranno ampie zone di sereno e clima particolarmente mite, il nord invece avrà l'atmosfera un pochino più instabile, tempo più variabile con anche qualche acquazzone. Controlliamo intanto la nuvolosità attesa sull'Italia e come vedete il nord Italia vedrà il passaggio di un po' di nuvole che si allungano fino anche all'Italia centrale, ma nel centro Italia si tratterà principalmente di velature. Al sud cielo per lo più poco nuvoloso. Come precipitazioni diciamo qualche acquazzone al nord è previsto, in particolare sulla fascia alpina-pralpina, con fenomeni anche piuttosto intensi a ridosso delle zone montuose, invece nel resto d'Italia è situazione tranquilla. Quindi in definitiva ci attende una giornata di lunedì all'insegna del bel tempo al centro-sud. Solo qualche velatura di passaggio nell'Italia centrale, al sud tratto temperature molto molto miti, massime che supereranno i 25 gradi, ma in alcune zone ci avvicineremo anche ai 30, figuratevi voi. Il nord invece avrà una giornata a tratti un po' più variabile, specie il nord-ovest, acquazzoni e temporali su Val d'Aosta, Alto Piemonte, Alta Lombardia, con fenomeni anche piuttosto intensi che in serata si sposteranno anche verso il Trentino Alto Adige, e l'Alto Veneto. Per sapere a questo punto nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.